Benvenuto a Mario Lanzone, candidato sindaco al Comune di Ailano, con la lista rinascita per un breve incontro e per parlare un attimo dei programmi elettorali. Lei è già stato un amministratore di Ailano, quindi è stato il sindaco alcuni anni fa, dieci anni fa. Perché poi ha deciso di ricandidarsi nuovamente? Buongiorno a tutti, in realtà questa è la mia quinta candidatura, di cui la quarta come candidato sindaco. Diciamo che le motivazioni per le quali sono di nuovo candidato sono varie. Ci sono degli stimoli che ho ricevuto da tanti amici che mi hanno spronato nella decisione di ricandidarmi e soprattutto nella decisione di presentare una lista ancora più competitiva rispetto alla lista presentata cinque anni fa. Poi ci sono delle motivazioni, diciamo, strettamente personali, che sono legate alla mia passione per la politica, che è qualcosa di connaturato in me, che è fiorito ancora prima di raggiungere la maggior età. E poi c'è l'amore per Ailano. Da chi è costituita la lista, sostanzialmente? La lista è costituita da un nucleo, diciamo, di persone che ci conosciamo ormai da sei o sette anni, con cui abbiamo fatto un percorso, un percorso di condivisione quasi quotidiana su tutte le tematiche del nostro paese. Un tema che senti particolarmente e che affronterà magari subito? Io, più che un tema, ne avrei più di uno. Farei una distinzione tra l'ordinaria amministrazione e quindi quegli interventi che andranno fatti immediatamente, tra i quali sicuramente una maggior cura del verde pubblico, una bonifica di alcune zone, tipo le scala del canale o la zona della fontana dell'acqua solfurea. Allo stesso tempo... Che potrebbe essere sfruttata? Potrebbe anche essere sfruttata come una valorizzazione di una zona, anche dal punto di vista, diciamo, turistico e economico. E poi sicuramente bisognerebbe dare l'indirizzo politico per riattivare alcuni servizi che attualmente sono inesistenti. Mi riferisco in particolare al servizio di trasporto scolastico, lo scuolabus, che ormai è fermo da quattro anni e mezzo. E poi bisognerebbe valorizzare opportunamente il patrimonio immobiliare del comune di Ailano. La casa albergo per anziani deve essere messa in funzione al più presto, perché è inutilizzata ormai da troppi anni, addirittura dalla mia prima legislatura. Lo stesso discorso vale per altri immobili di proprietà del comune, come l'ex scuola materna in località alle Vaglie, che, se opportunamente valorizzata, può diventare molto importante. Sandra, qual è... Volevo aggiungere, dal punto di vista straordinario, come amministrazione, impegni straordinari da fare, c'è sicuramente quello di dare un impulso, uno studio approfondito sulla situazione dell'acquedotto comunale, che purtroppo è in uno stato di obsolescenza, dovuto alla... ormai risale agli inizi degli anni Ottanta, e quindi è normale fare uno studio e soprattutto trovare dei finanziamenti per effettuare un intervento strutturale sullo stesso. E allo stesso tempo bisognerebbe valorizzare l'isola ecologica già presente, che può rappresentare sia un miglioramento dello smaltimento dei rifiuti ingombranti e sia consentire di ridurre i costi del, diciamo, dello smaltimento dei rifiuti. C'è un progetto, qualcosa, qualche tema in particolare che farà subito come prima... Sicuramente una delle prime iniziative riguarderà quello di uno studio approfondito sulla situazione dell'acquedotto comunale e mettere subito in campo tutte le forze disponibili per poter sopperire a una carenza che negli ultimi periodi si sta riproponendo frequentemente e quindi è un bene essenziale per la collettività. Bene, il nostro incontro politico per le elezioni comunali dell'8 giugno termina qui. Grazie al nostro ospite e alla prossima sigla!